Ci vorrà ancora qualche giorno per ripristinare la viabilità in piazza Sant'Ambrogio, a pochi passi da piazza Ducale a Vigevano. Entro la fine di luglio dovrebbero tornare usufruibili i parcheggi che al momento sono ancora interdetti alla sosta per i lavori di consolidamento della copertura del naviglio sforzesco. Lavori che, anche a causa delle piogge, hanno avuto un rallentamento e che riguardano l'area accanto alla scuola Mediabussi e al lato del mercato coperto. Al momento si può ancora accedere al parcheggio della piazza passando da via Roccavecchia e in uscita da via Decembrio, mentre non si può ancora passare da via Buozzi. Come spiegato anche dal sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, una volta ultimata questa fase dei lavori al naviglio sforzesco, la piazza Sant'Ambrogio ritornerà come prima, con tutti i parcheggi, molti dei quali, in tutta una quindicina, sono stati sacrificati per tutta la durata del cantiere, ripartito all'inizio di febbraio. Tutto questo mentre la giunta ducale si appresta, nella mattinata di mercoledì in sala consigliare, a presentare il progetto per rifare la copertura nell'area del mercato coperto, vicino al naviglio sforzesco. Si tratta della seconda fase dell'intervento di ristrutturazione che era stato previsto nel 2019 ai tempi dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Sala, progetto che ha poi subito una serie di rallentamenti, anche legati agli strascichi della pandemia Covid. I lavori al mercato coperto dovrebbero incominciare nel mese di ottobre, in concomitanza con l'asciutto autunnale del naviglio. La pensilina sarà abbattuta, così come alcune piante che si trovano nella zona di via Roccavecchia. L'area del mercato coperto di Vigevano sarà infatti riqualificata completamente anche dal punto di vista estetico, con un camminamento nell'ultimo tratto di via Roccavecchia.